Estensione di validità del DURC e proroga dei pagamenti a Edilcassa Veneto Oggi parliamo di DURC. Il DURC è uno dei provvedimenti amministrativi che ai sensi del decreto 18 dello scorso 17 marzo hanno subito una proroga. Il decreto infatti ha concesso la proroga per tutta una serie di procedimenti amministrativi e di pratiche ad essi collegate. L'Inps è uscito con una nota in cui ha specificato che i DURC con scadenza tra il 31 gennaio e il 15 di aprile saranno prorogati nella loro validità sino al 15 di giugno. Ricordiamo che il DURC è il documento unico di regolarità contributiva e certifica la regolarità dell'azienda nei confronti degli istituti quindi Inps-Inail e per le ditte dell'edilizia nei confronti delle casse edili. È un documento essenziale per le aziende che lavorano nel sistema degli appalti perché solo con la regolarità contributiva le aziende possono accedere al pagamento da parte dei committenti e alla piena funzionalità delle attività dell'impresa. Successivamente anche l'edilcassa Veneto appunto per le ditte dell'edilizia ha specificato che gli stessi termini verranno prorogati nei confronti dei versamenti alla cassa edile. Con circolare 2 del 2020 degli scorsi giorni edilcassa è anche intervenuta a dare delle specifiche riguardo i versamenti che le sono propri. Per cui tutte le scadenze e i pagamenti riferiti al periodo di febbraio-marzo scadenti rispettivamente alla fine di marzo e alla fine di aprile saranno prorogati al 31 di maggio. Inoltre questi pagamenti potranno a richiesta delle aziende essere rateizzati in un numero massimo di quattro rate. Naturalmente adesso aspettiamo le indicazioni operative per poter effettivamente adempiere in tal senso. Rimangono invece invariate le date di presentazione delle denunce per cui le denunce alle cassa edili non subiscono proroghe e dovranno essere effettuate entro la fine rispettivamente di marzo e di aprile.